Como si prepara ad ospitare la 75esima edizione della Centomiglia dell'Ario. L'evento di motonautica non sarà incentrato soltanto sull'omonima gara che si disputa domenica alle 14 con partenza dalla zona della diga foranea. Sono infatti previste le competizioni del campionato europeo offshore che sono state messe in calendario venerdì e sabato con partenza sempre alle 14. Il programma per chi vuole seguire l'evoluzione dei volidi nel primo bacino del lago di Como prevede inoltre le prove libere venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12. L'organizzazione è a cura dell'Iota Club Como, finora si sono iscritti complessivamente una sessantina di scafi. Tra i piloti più attesi Serafino Barlesi, Gianpaolo Montevoci e François Pinelli, vincitore dell'edizione 2023. Una manifestazione che prevede una serie di limitazioni nel primo bacino del lago e poi nella zona in cui saranno posti i box e la direzione. Per consentire la disputa delle gare negli orari delle competizioni nel primo bacino saranno sospese alcune corse della navigazione laghe, i pontili di Como, Tavernola, Cernobbio e Blevio. In sostituzione è stato predisposto un servizio navetta in bus. In zona Stadio Sinigaglia, fino alle 12 di lunedì prossimo, in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta su entrambi i lati. In Viale Vittorio Veneto, nel tratto tra Largo Borgonovo e Viale Puecker. In Viale Puecker, nel tratto tra il Monumento ai Caduti e Piazzale Somaini e in Via Pietro d'Abreggia. Infine in Viale Masia, nel tratto ricompreso tra Viale Rosselli e Piazzale Somaini. Il transito pedonale lungo le aree Giardini a Lago, nonché l'accesso al pubblico al Tempio Voltiano negli orari di apertura, dovrà essere garantito sempre dagli addetti dell'organizzazione.